Iron Man contro Gesù Profugo! Dottore, buongiorno! Buongiorno! Possiamo fizzare un appuntamento? Io sono fidanzato, non si permetta mai più! E poi mi piace la passera! Ma no, per darmi un occhio! Eeeh, qua visitiamo la gente, non è che prestiamo gli organi! Ma è laureato almeno! Qua è fumagati! Basta di ristronzate, devo dirle due cose! Mi ascolti, allora... Ogni volta che mi siedo... Mi fa mare la schiena! Non si sieda! Eh, ho capito! Sono 80 euro, grazie! Vabbè, eeeh, piuttosto... Avete notizie di mia moglie? Ma è pure sposato, ma è proprio uno stroco! Per favore, eh, senta, sono un po'... Mi scusi, non è il momento, sono un po' in ansia! Eeeh, la ragazza che avete ricoverato... Per l'incidente settimana scorsa! Allora, eccola qua! Minchia! Bella come il cagotto e il raffreddore messi insieme questa, eh! Per favore, mi dica solo come sta! Eeeh, purtroppo... Ho una brutta notizia da darle! Quanto brutta? Quasi quanto sua moglie! Mio Dio, non mi dica che non ce l'ha fatta! Affare che? L'avete persa! No, no, è qua dietro, quel solo che è morta! Arrivederci, grazie! Mio Dio! Mio Dio!